l'umore di piatti alla casa dei libri ma abbiamo persino i piatti sì abbiamo persino dei piatti guardate questo è un piatto del 1959 qui ce n'è un altro e sono opere uno potrebbe pensare di picasso perché se ne vedono molte di ceramiche di picasso di questo tipo invece sono di intanto sono della rosenthal in germania che è una delle più grandi fabbriche di ceramiche ma sono di jean cocteau jean cocteau è un altro di quegli artisti che magari le persone che sono molto dentro le cose delle lettere ricordano molto bene ma lo inseriamo nei dimenticati o quasi perché è un personaggio che invece tutto sommato quantomeno in italia non è così ricordato e se avremo la capacità di intrattenervi abbastanza vi raccomandiamo allora una gita a mentone appena dopo il confine italiano dove c'è un meraviglioso museo cocteau con tutte le sue opere i suoi disegni le sue opere letterarie quelle cinematografiche eccetera che è anche un posto molto piacevole quasi in riva al mare l'hanno fatto da poco molto bene cocteau si dimenticato si e no però se pensiamo che solo quest'anno al festival di venezia almodovar ha presentato un film con la tinda swinton che si chiama la voce umana ed è un monologo un monologo di mezz'ora su testo appunto di jean cocteau dove c'è una sola attrice che sta al telefono fondamentalmente è una telefonata appunto quella della voce umana e che è piuttosto famoso in italia perché ce n'è un precedente molto noto almeno ai cinefili che ha interpretato né più né meno che anna magnani però noi qui parliamo più del dell'uomo di lettere quindi non solo di teatro di palcoscenico e dell'uomo anche d'arte perché cocteau è stato una via di mezzo tra l'arte e il e la letteratura appunto il teatro è stato un uomo molto molto versatile in quella parigi meravigliosa dei primi anni del novecento fino più o meno al 1960 lui muore nel 62 e dove frequenta un po tutti tutti quei nomi che appunto oggi in alcuni casi sono magari un po' meno noti per esempio bless andrar straordinario poeta di cui un giorno mi piacerebbe anche parlare ma purtroppo mi manca qua uno dei libri più belli del novecento che è la prose di transiberia anche un libro a leporello con tutti dei dei disegni meravigliosi lo si vede esposto ecc qui abbiamo invece di corto qualcosina anche di carino per esempio proprio per mostrare i suoi rapporti con la grande cultura di inizio secolo ecco un libro un essay d'etude on direct quindi un saggio di uno studio in diretto le mister laic il mistero laico si intitola su giorgio de chirico quindi un libro tutto dedicato a de chirico che de chirico ha illustrato con cinque suoi disegni siamo nel 1925 quindi sia de chirico che corto che erano più o meno coetanei hanno una quarantina d'anni corto ha come de chirico lavorato alla nascita del movimento surrealista e quindi ecco che si trovano tutte e due che poi prenderanno strade diverse in questa anclava e questo libro semi clandestino non facile da trovare in poche copie è un libro molto bello dove naturalmente le illustrazioni di de chirico sono la parte poi più notevole da ritrovare ma dicevamo corto è però anche disegnatore improprio disegnatore con un tratto molto molto particolare qui ne abbiamo un'altra questa un'edizione del cosiddetto service de press cioè sono quelle edizioni che i francesi facevano un tempo da mandare alla stampa quindi sono fondamentalmente delle prime edizioni loro facevano delle edizioni numerate e poi qui come è scritto davano tutta un'indicazione della tiratura e se c'è scritto sp sp vuol dire appunto che è un'edizione per la stampa service de press e vedete che anche qua questo è un libro sulla corrida di premie me la corrida del primo maggio ed è anche un libro tra l'altro sembra grande ma è scritto con caratteri molto molto grandi ed è pieno di disegni di corto così come qua vedete il disegno che è vicino a fontespizzo che è anche ripreso nella copertina un uomo che va sempre al confine e quindi anche quando viene deciso di ricordarlo per esempio della collanina delle strene di paolo franci di cui abbiamo parlato l'altro giorno ecco che non mancano sempre le possibilità di fare vedere dei suoi disegni magari dei disegni buffi magari delle dediche di cui corto era particolarmente prodigo e magari una dedica con un disegno com'è questo pesce perché vanni scheiville era l'editore dell'insegna del pesce d'oro per cui corto gli fa una immagine molto particolare siamo nel 59 di un pesce tutto abbigliato in gingheri ma poi gliene fa un altro si diverte a fargli delle sorte di aringhe tutte disossate con una sola lisca quindi questo era l'uomo corto un uomo che muore poi abbastanza non giovanissimo ma insomma è 62 non ha ancora 80 anni e di cui la casa conserva tutta una serie anche di edizioni dove sono riportate tutte le lettere che e le dediche che lui ha fatto a qualcuno che man mano vengono fuori e che mostrano sempre questo tratto particolarmente giocoso ma anche molto colto queste sue figure che sono abbastanza etere appena disegnate in silhouette ma certamente molto particolari e poi comunque va ricordato perché qua parliamo di uno scrittore che ci sono delle opere che ancora possono essere lette con un certo profitto a parte alcune poesie che sono molto belle io penso che poi l'opera più nota e che merita oggi di essere riletta è Les enfants terribles i ragazzi terribili che è un romanzo poi adattato per il teatro ancora negli anni venti quindi un'opera del diciamo non del primissimo corto ma del corto medio corto già maturo ma non ancora anziano Grazie per la visione! Grazie a tutti.